Ciao, in questo video andremo a vedere insieme Lilia, cioè il nuovo campione in arrivo su Wild Rift per scoprire quando guardate il video sulle patch notes. Ad ogni modo, come sempre, andremo a vedere le abilità, la priorità di abilità, qualche combo e ovviamente una prima build ma, come sempre, quella cambierà più avanti nel tempo, nel tutorial e su eventuali video successivi. Partiamo dunque dalla passiva. In realtà vi leggerò la passiva e la prima abilità entrambe perché per mostrarvi la passiva dovremo colpire con altre abilità. Quindi vi faccio vedere prima la passiva e la prima abilità, ve le faccio vedere anche prese dal server cinese come sempre e così sarà tutto più chiaro. La passiva è bastone dei sogni. Le abilità di Lilia applicano polvere dei sogni che infligge una parte della salute massima del bersaglio come danni magici per la sua durata. Andiamo anche a vederla come sempre anche su quest'altro sito qui dove, vedete, dice colpire un campione con un'abilità farà del danno addizionale magico. Vedete, vabbè, questi percentuali poi sono quelli di LOL PC ma tanto a noi interessa l'effetto che quindi è fare del danno in base alla vita massima del bersaglio come danno magico nei prossimi tre secondi. Quindi fa questo danno nel tempo. Inoltre Lilia si cura. Vedete qui, vabbè, come sempre le percentuali, le cose poi le vedremo giuste nel nostro server e si cura quando fa danno grazie alla passiva contro i campioni di un tot e contro i mostri più grandi anche di un tot. Quindi comunque nel tempo andrà a curarsi grazie a questa passiva. Quindi passiamo subito alla prima abilità perché come abbiamo visto per attivare la passiva serve colpire altre abilità quindi noi ci vediamo la prima abilità anche che cosa fa e poi vi faccio vedere i video di entrambe le cose. Andiamo appunto sulla prima abilità che dice, che si chiama colpi in fiore e dice che Lilia agita il bastone in aria, infligge danni magici ai nemici vicini e danni puri a quelli sul bordo esterno del cerchio. Quando va a segno con questo attacco ottiene anche velocità di movimento e adesso l'andiamo a vedere appunto con il video. Ok, qui per farvi vedere la passiva utilizzo, intanto vi faccio vedere gli attacchi base e poi qui andrò ad utilizzare la prima abilità che ora vedrete ma poi vediamo un video anche per lei dedicata che attiva la passiva. Non so se vedete questo segno sopra il fantoccio che praticamente va a farci vedere che la passiva è attiva e nel frattempo se notate prende 53, 53, 53 di danni. Qui adesso io vado a fare un'abilità anche sullo scatol che invece non si vede questa attivazione sopra della passiva perché? Perché in realtà questo segno qui poi andremo a vedere è quello della Suprema cioè il fatto che ci dice la Suprema che poi andremo a vedere servirà aver colpito qualcuno con un'abilità. Quindi la passiva fa danno nel tempo come vedete anche allo scatol e poi ci servirà anche come attivazione per la Suprema. Nel frattempo appunto fa danno magico ma andiamo a vedere la prima abilità. Eccoci qui sulla prima abilità che vedete fa questo cerchio intorno a Lilia potete castarlo mentre vi state muovendo ora ve lo sto facendo vedere da fermo ma fa più danno nella parte esterna adesso se vedete qui l'ho fatto in mezzo ha fatto solo 50 si confonde un po' con i danni magici della passiva ma vedete ecco 51 se invece lo faccio sul bordo esterno e magari lo prendo ecco ha fatto 104 non so se adesso qui adesso mando leggermente indietro così si vede eccolo qui 104 e lo vediamo in bianco perché come abbiamo visto prima fa dei danni aumentati in questo caso danni puri quindi importante ecco ve lo faccio rivedere da qui perché c'è anche un'altra cosa importante c'è una passiva sulla prima abilità cioè quando Lilia colpisce con le sue abilità prende della velocità di movimento addizionale quindi 3, 4 vabbè questi come sempre i numeri non sono esatti anche per Wild Rift ma la cosa importante è che prende della velocità di movimento che dura 6,5 secondi però può essere staccata fino a 4 volte adesso vi faccio vedere anche questa cosa invece quando lo va a attivare succede quello che abbiamo visto nella parte esterna però appunto fa danno puro eccoci qui quindi come dicevo danno puro danno in mezzo normale se notate ecco vedete qui sotto in fondo si vede la freccetta del mouse perfetto vedete qui in fondo che c'è questa passiva che ho scritto 4 ecco quella lì ecco la velocità di movimento di cui vi stavo parlando se voi colpite con le abilità continuate a staccarla e muovervi più velocemente e come notate la prima abilità può essere utilizzata mentre ci si muove quindi andate in giro e la continuate a castare questo cosa vi permette di fare di continuare a schivare le abilità avversarie mentre la vostra velocità di movimento continua a crescere e in più nel frattempo continuate a colpire adesso i cooldown sono disabilitati ma il cooldown di questa abilità diventa veramente basso una roba come ogni 2-3-4 secondi massimo vediamo ora invece la seconda abilità che è attenzione scusa si l'avevamo già visto anche nel video vecchio Lilia carica un potente attacco con il suo bastone infliggendo danni magici ai nemici i nemici vicini al punto di impatto subiscono più danni la diamo a vedere anche qui quindi dice che Lilia si prepara per fare questo colpo che adesso andremo a vedere farà tipo ah boh sta specie di martellata con la sua bacchetta magica che fa questi danni insomma ne fa vari poi ripeto le percentuali sono diverse e come danno magico però i nemici che sono nel centro prendono un bel po' di danno in più eccoci qui vi faccio vedere questo qui è il range della seconda abilità se l'andate a castare vedete fa questo balzo in avanti che dà questo colpone gigante una cosa importante ecco vedete non passa attraverso le pareti ci posso provare quanto mi pare ma non ci passa su alcuni angoli funziona ecco non so se l'avete visto poco fa ve lo faccio rivedere entrambe le interazioni qui io ci provo e scusate ecco qui ci provo e prendo il muro l'angolo invece se lo faccio nel punto giusto un pezzettino di angolo lo supera ma è una roba veramente piccola e che secondo me andrà a impattarvi il gioco nel momento in cui giocate tantissimo Lidia e riuscite a perfezionare ogni angolo però in linea di massima appunto no qui ho sbagliato a premere il tasto e qui invece sono riuscito a passare nell'angolo però è una cosa che vedrete poi cosa importante come vi ho detto prima il danno nel centro è maggiore infatti se vedete qui boom 60 di danno ed è segnato tipo una specie di critico adesso invece lo vado a fare sul bordo e fa molto meno danno nel centro boom fa più danno vediamo ora invece la terza abilità che è seme turbinante Lidia lancia un seme turbinante davanti a sé infliggendo danni magici ai nemici e rallentandoli per la durata se il seme manca il bersaglio continua a rotolare finché non colpisce un nemico il terreno l'andiamo a vedere anche qui ma è letteralmente identico semplicemente hanno aggiunto dei numeri quindi fa comunque del danno questa abilità se poi consideriamo anche la passiva nel tempo che è molto interessante ma che cosa ci serve questa abilità intanto andiamo a vederla e poi capirete perché è importantissima un'abilità che è praticamente globale cioè se non prende un muro e vi farò vedere anche nei combo e nei trick come per esempio tirarla dalla base fino alla top o dalla base fino alla bot e potremo fare insomma un po' di giocate interessanti eccoci qui a vederla anche in game vedete che sto questo è il range l'indicatore lì è il primo rimbalzo e poi qui va avanti qui vi faccio vedere che prende il muro se la lancio verso il nemico adesso la tiro qui lo colpisce e inizia a fare il danno nel tempo allora il danno nel tempo è quello della passiva il danno della E è quel danno iniziale che in questo caso abbiamo visto che era 31 molto basso ma perché è un'abilità che ha un suo utilizzo importante non è tanto qui stavo provando a vedere le varie dove sbatte dove non sbatte qui passa allora dico ok vi faccio vedere qui ad esempio va un po' più dritta se premete il tasto vi fa vedere dove sta viaggiando mi metto sul river così sul fiume appunto per farvi vedere come viaggia di più la tengo premuta così vedo dove sta viaggiando scatto dall'altra parte della mappa fa del danno appena colpisce e poi attiva la passiva che farà danno nel tempo e infine vediamo la suprema cioè la ninna nanna melodica Lilia lancia una ninna nanna sui nemici e chi è affetto da polvere dei sogni che ricordiamo essere la passiva che si attiva colpendo con una qualsiasi delle sue abilità quindi si attiva applicata la passiva chi è affetto da polvere dei sogni viene progressivamente rallentato fino ad addormentarsi per un certo periodo di tempo i nemici svegliati dai danni subiscono danni magici aggiuntivi quindi come avete visto ha delle abilità che fanno più danno in alcuni punti la prima abilità nella parte esterna la seconda abilità nel centro quindi se voi colpite qualcuno lo rallentate grazie alla suprema e poi si addormenta a quel punto lo andrete a colpire con una delle vostre abilità o più di una vostra abilità e gli farete una fracca di danno tutti insieme e si può essere attivata su tanti bersagli contemporaneamente tra l'altro sono andato a prendere la traduzione cinese ho fatto gli screenshot all'interno del gioco e qui dice che praticamente voi quando attivate la suprema nel secondo e mezzo successivo iniziate ad addormentarli appena passato questo secondo e mezzo si addormentano per due secondi il primo livello è due secondi quando lo potenziate diventa 2,3 secondi e quando avete la ulti a livello massimo diventano 2,5 secondi che sono un bel po' e abbastanza per fare più danno e in teoria poi ne avrò la conferma quando la potrò provare meglio in game ma dovrebbe essere così al 99% se voi addormentate qualcuno e vedete che c'è scritto anche qui quando qualcuno è svegliato dal danno perché sta addormendo prenderà dei danni addizionali che sono 100 150 200 insomma poi aspetta controllo anche qui ok qui c'è scritto 100 danni magici aggiuntivi più il 40% quindi sembra essere rimasto identico quindi 100 150 200 danni magici aggiuntivi e però in teoria se anche viene svegliato da qualcun altro quindi se qualcuno viene addormentato e viene svegliato da me che non sto giocando o qualcuno insomma da un compagno che non sta giocando Lilia comunque prenderà dei danni aggiuntivi e in teoria l'ability power però che viene calcolato è comunque quello di Lilia e comunque questi danni vengono calcolati da Lilia eccoci qui la vediamo in game vedete che colpisco il nemico con la prima abilità attivo la suprema passa un po' di tempo lui si addormenta per tutto il tempo di quella barretta bianca quindi un gran bel po' di tempo colpisco attivo la suprema qui volevo farvi vedere che funziona anche a voi ma effettivamente lo scatto non si addormenta quindi salterò più avanti metto due manichini li colpisco entrambi anzi tre manichini li colpisco tutti con la prima abilità attivo la suprema e boom vedete che si stanno addormentando tutti e tre tutti e tre addormentati se li colpisco gli faccio più danno quindi li addormento li colpisco e faccio dei danni addizionali ovviamente questo è stracomodo nei team fight perché? perché se voi riuscite a colpire più persone grazie alla prima abilità o spammando un po' le vostre abilità in giro dato che la passiva viene applicata per un po' andrete a premere la suprema addormenterete i vostri nemici idealmente il più possibile e poi andrete a fare un sacco di danno insieme alla vostra squadra qui vi faccio vedere con la seconda abilità ecco i danni in più che vengono fatti quindi attivo la suprema vediamo se lo faccio vedere qui ecco qui colpisco il nemico attivo la suprema e poi lo vado a colpire con la seconda abilità ma adesso prima di parlare delle combo andiamo a vedere l'ordine delle abilità e come sbloccarle anche per questa volta l'ordine è piuttosto semplice cioè andiamo a prendere la suprema ogni volta che è disponibile poi la prima abilità ogni volta che è disponibile poi la seconda abilità e poi la terza questo è l'ordine piuttosto standard ogni tanto mi è capitato di vederne uno differente ma anche come statistiche come controllo per quanto riguarda LOL PC che è una buona fonte di informazioni perché i giocatori le hanno giocati per tanti anni questi campioni diciamo che l'80% delle persone vanno a fare questo ordine perché? perché in linea di massima la prima abilità è quella che spammate tantissimo che vi permette di accumulare la passiva di muovervi velocemente e così via la seconda abilità è quella è quel danno massivo grosso che cercate di fare la terza serve più come abilitare cioè come si dice come dico enabler però è questa abilità che serve a fare in modo che voi colpiate più facilmente i vostri avversari con la suprema addormentandoli oppure per attivare la passiva e quant'altro è un po' una cosa diciamo che serve appunto ad attivare tutto il resto ma ora anche se effettivamente non sono tantissimi ma andiamo a vedere qualche combo interazione e trucchetti vari partiamo subito dalla terza abilità e guardate qui come ad esempio la lancio in mezzo e continua ad andare perché vi ricordo che è globale una cosa importante da considerare guardate anche la minimappa in alto a sinistra quando io vado a cercare di prendere la mira in alto a sinistra si vede dove sbatte quindi è molto facile cercare di capire dove lanciarla specialmente poi quando ci prendete la mano quindi mi metto qui nell'angolo vedo qual è la traiettoria giusta capisco che la posso lanciare fino alla top lane e vedete che questa abilità va a colpire fino lì giù però a cosa serve uno può aiutare può fare danno ed è sempre comodo due la vostra suprema la potete attivare anche da una grande distanza quindi anzi tecnicamente è global cioè semplicemente se qualcuno è colpito dalla vostra passiva e quindi lo potete fare a distanza grazie alla terza abilità lo potrete andare a addormentare quindi avete un modo di gancare molto particolare tipo vedete che la situazione botta è brutta tirate la palletta che vi ricordo però sbatte sul primo muro primo bersaglio prime cose quindi i minion ovviamente creano problemi a riguardo però la potete lanciare la buttate nel mezzo e poi andate ad addormentare qui appunto volevo farvi vedere come colpisce sui bersagli lanciato dalla distanza vedete sono lontano niente qui ho mancato perché sono un pedale giustamente e la rilancio qui la vado a lanciare colpisce il bersaglio attivo la suprema dalla distanza e quel bersaglio viene addormentato quindi questo è un modo molto particolare di utilizzare la suprema che però in qualche situazione potrebbe funzionare andiamo a vedere invece la prima combo cioè ossia in realtà non è una combo ma è una cosa che si fa su molti campioni cioè utilizzare il flash insieme a una delle abilità per cancellare un po' di tempo d'animazione quindi quello che andiamo a fare noi è premere la prima abilità cioè la kun la prima abilità e poi a flashare per cancellare il tempo di animazione quindi qui ve la faccio vedere cioè premo la prima abilità flash e colpisco entrambi e ora per farvi vedere la differenza vado a fare il contrario cioè flash e poi la prima abilità guardate quanto è più lento flash e poi la prima abilità cioè il tempo per i nemici di reagire al vostro flash se invece voi siete molto veloci e fate appunto prima la prima abilità e poi il flash colpirete in una frazione di secondo e considerando quanto è veloce Lilia e considerando anche il fatto che poi grazie alla suprema potrete andare a rallentarli è veramente tanta roba tra l'altro una cosa importante che voglio farvi notare per la passiva è che vedete io ho una stack se io vado a fare la combo adesso e colpisco due nemici la stack rimane comunque cioè rimangono due non diventano tre perché voi avete colpito con un'abilità e vi date una stack di movement speed però non è che se colpite quattro nemici avete subito il massimo di stack dovete comunque colpire quattro abilità diverse e così via quindi di solito usate la prima poi magari la seconda la terza e così via vi torna la prima e cercate di far camenarvi e di saltellare in giro molestamente quanto amo questo campione un'altra combo con il flash e il Q ma con anche la zonia l'andiamo a vedere adesso ma perché? perché se voi fate questa cosa vedete quindi flash Q zonia adesso lo faccio rivedere o meglio Q flash zonia per ordine premete la Q premete il flash colpite più nemici e andate in zonia questo può servire perché così avete colpito tre nemici e praticamente se vogliono targettarvi o comunque provare ad uccidervi non possono e successivamente quando uscirete dalla zonia potrete fare altre cose diciamo che è un preludio ad altre combo quindi è importante sapere che lo potete fare e poi deciderete quando applicarlo in base a teamfight un'altra cosa importante da sapere è sempre invece il fatto che potete attivare la zonia mentre usate la seconda abilità il problema qual è in questo caso è che la zonia verrà attivata io la sto premendo prima non so se qui si vede guardate io la vado a premere prima cioè io già l'ho premuta qua ma si va ad attivare solo nel momento in cui finisce l'animazione questo è importante perché ovviamente se l'avete premuta insieme per fare questa combo siete bloccati lì la dovete usare durante l'animazione e comunque arriverà la fine cioè anche se la spammate non si ferma prima arriva fino alla fine e poi casta la zonia questo può servire sia perché avete capito che siete in pericolo e quindi la andate a castare sapete che appena atterrate insomma avete dato la martellata così si può dire si attiva la zonia sia perché magari ci volete fare qualche combo successivamente quindi applicate la passiva andate in zonia è stessa cosa della Q diciamo che la Q è più facile colpire la prima abilità intorno o prendere più bersagli questa combo invece ci fa comprendere meglio anche quello che abbiamo visto fino adesso cioè intanto vedete in alto a sinistra io ce l'ho scritto qui sul drive quindi mentre parlo se mi volete seguire più facilmente sono in alto a sinistra qui andiamo a fare la prima abilità insieme al flash quindi Q flash poi attiviamo la suprema per addormentare i nemici andiamo in zonia nel frattempo aspettando che si addormentano e poi quando usciamo dalla suprema possiamo castare ovviamente la prima abilità di nuovo difficile che saranno rimasti tutti lì vicini esattamente nello stesso punto però magari sono arrivati altri cc dai compagni quindi andiamo a vedere Q più flash ne andiamo a colpire questi tre bersagli attiviamo la suprema loro si addormentano intanto noi andiamo in zonia loro si addormentano usciamo dalla zonia e li colpiamo tutti chiaro che poi potete andare a castare anche la seconda e la terza abilità però in linea di massima se sono appunto più bersagli da colpire divisi con la prima abilità sarà più facile colpirli questa più che una combo è un modo per farvi vedere come potete fare dei gank cioè praticamente utilizzando la terza abilità voi siete fuori dalla visione dei nemici lanciate la terza abilità ovviamente dovrete fare un po' di predict provare a prendere il nemico se lo riuscite a colpire potete decidere poi come muovervi successivamente intanto quando lo colpite con la terza avrete la movement speed in più della passiva poi andrete appunto magari a rallentarlo se avete anche oggetti che rallentano cose del genere quindi lo colpite con la terza abilità e a questo punto potete decidere come fare andare in mezzo e tirare la prima o la seconda come ho fatto poco fa vedete vado a fare con la prima con la seconda e continuo a colpirlo oppure potete lanciare la sferetta attivare la suprema se volete provare a fare l'uccisione quindi il nemico sta per essere addormentato poi boom lo colpite di solito con la seconda abilità che è quella che fa più danno perché nel centro fa un bel po' di danno poi dipende a che punto siete insomma della build come l'avete alzato e potete utilizzare anche le altre abilità qui sto cercando invece di farvi vedere l'interazione tra la prima e la seconda abilità usate molto velocemente insieme cioè se io vado a usare la seconda e la prima contemporaneamente entrambe fanno danno ed è come se cancellate leggermente un po' l'animazione niente di esagerato perché in linea di massima diciamo che in linea di massima lanciate la terza abilità da fuori attivate la suprema ci avvicinate fate la seconda abilità che fa tantissimo danno e poi castate la prima a questo punto sarete praticamente con la passiva maxata perché avete colpito con tutte le varie abilità e riuscirete a inseguire più facilmente il nemico nel caso strano in cui sia rimasto ancora vivo sempre su questa scia quello che potete fare è lanciare la terza abilità invece di andare subito con la suprema avvicinarvi con la prima continuare a colpire poi attivare la suprema andare con la seconda abilità e poi eventualmente potete ricastare la prima abilità qui sto andando a levare i cooldown per farvelo vedere anche senza cooldown quindi lanciate la palletta ce la faccio jumpy del passato che mi era successo lancio la palletta mi avvicino colpisco la prima abilità uso la suprema uso la seconda abilità eventualmente qui boom appena si è addormentato e avete di nuovo la prima disponibile detto questo andiamo a vedere una prima build e successivamente anche la skin è differente rispetto a quella base eccoci qui a vedere la build il primo oggetto che vado a mettere per ora è il bastone secolare ho cercato di capire qual è meglio tra il bastone e l'udenseco e devo dire per il fatto che comunque vi trovate sempre nei paraggi del pericolo per quanto sia più difficile colpirvi col bastone secolare si va a scalare meglio avere quella possibilità di recuperare vita in mana è veramente comodo e quindi ve la consiglio di insomma provate e vedete quale vi sentite meglio per ora penso che andrò con il bastone secolare poi vedete che come secondo oggetto qui ho messo il tormento di liandri avere un po' con questa mezza scelta cioè andiamo sul tormento di liandri come secondo item oppure magari con un sagomalanda che invece ci darà true damage o possibilità di curarci e così via ecco probabilmente proverò a fare prima il sagomalanda e poi il tormento di liandri però allo stesso tempo se voi fate il tormento di liandri come secondo oggetto avrete comunque una notevole quantità di vita e potrete anche già iniziare a fare questo danno nel tempo dato dal tormento che considerando il vostro campione quanto applicate quanto rimanete in fight e così via sarà veramente molto comodo poi chiaro che se avrete e deciderete di andare con la build col tormento e il sagomalanda quando avrete questi 3 oggetti diventerà molto interessante e riuscirete a fare molti danni come scarpe qui ho messo ovviamente poi l'evoluzione con la stasi di mercurio stracomoda per tutte le combo che avete anche già visto ma proprio anche a livello ecco difensivo per questo campione qui ho i calzari di mercurio per ridurre i cc su di me ma allo stesso tempo dipende dal game se hanno tanto danno fisico potrete tranquillamente andare a fare le piastre d'acciaio e magari invece nei game dove vi sentite invincibili dove nessuno vi prende dove provate a fare i miracoli potete prendere tranquillamente anche quelli della cdr e spammare ancora di più successivamente passiamo agli ultimi oggetti che non dico situazionali perché in realtà mi piace avere il rabadon e il cosmic drive per un kit come quello di Lilia col danno ap e movimento che è veramente tanta roba specialmente il cosmic drive però è anche vero che già con questi 3 oggetti farete dei danni veramente interessanti quindi in base alla partita potete scegliere se andare full ap e andare a buildare cosmic drive e il rabadon provate un po' entrambi gli ordini quindi prima cosmic ed infine rabadon oppure prima rabadon e poi cosmic oppure andare verso qualcosa di più difensivo ed andare ad utilizzare ad esempio contro il danno magico la corazza spirituale che vi darà appunto rigenerazione di salute difesa magica e quant'altro ma anche la possibilità di curarvi di più e ricordiamoci che con la passiva di Lilia passiva insomma scusatemi di Lilia e anche col sagomalanda e con la runa che andremo adesso a vedere vi curerete un bel po' dico importante non sarà per niente male andare a buildare un item come il riflettore cristallino che vi darà armatura potere magico ovviamente velocità di abilità e questo danno che riuscirete a riflettere e saltellerete in giro in maniera molesta per le rune abbiamo due scelte ossia conquistatore e andare quindi a curarci con la sesta stack a fare più danno e così via o altrimenti una build particolare molto divertente è quella con lo scatto fasico quindi la possibilità di essere ancora più veloci riprendere i cooldown ed essere ancora più molesti sicuramente le proverò entrambe sarà veramente divertente provare queste cioè sia la combo di Mikur tantissimo sia di quella sono ancora più imprendibile per quanto riguarda le altre tre rune le lascio identiche sia se uso lo scatto fasico sia se uso il conquistatore ossia cacciatore vampirismo per curarsi di più sfera dell'annullamento che fa sempre comodo con questo scudo specialmente nelle prime fasi di gioco ed infine cacciatore genio che ci darà velocità di abilità che è sempre tanta roba infine come summoner spell andremo a mettere la punizione e il flash che sono abbastanza standard per la giungla qualcuno forse vorrebbe giocare con il ghost ma tutte le combo che vi ho fatto vedere vengono molto più facilmente con il flash e il campione corre già abbastanza da non avere la necessità della spettralità insomma del ghost detto questo rimane solamente una cosa da vedere ed è la skin qui la vado a selezionare in champion select e ve la faccio vedere eccola qui la faccio roteare anche il cerbiattino del male e qui la vediamo invece quando la partita inizia a caricare questa è la splash art mentre sta caricando ovviamente sul server cinese qui invece ve la mostro in game dove vado a spammare le abilità questa è la terza qui sto togliendo i cooldown in modo da poter spammare la prima abilità si vedete è un po' più celestiale un po' più spirit blossomica anche se già comunque è molto nello stile del campione vedete che la passiva è diversa che viene applicata sopra adesso questa lancia la sferetta anzi vi faccio vedere anche la sferetta che viaggia più a lungo qui che è leggermente appunto è diversa per la skin e poi andiamo a vedere qui dove vado ad applicare la prima intanto ecco la seconda vado ad applicare la passiva vedete sopra il fantoccio è diversa rispetto a quella dell'altra dell'altra skin e quella base e qui invece vado ad addormentare con il fiore completo e detto questo ci siamo ma se vuoi vincere uno o più skin ascoltami un secondo praticamente vado a regalare molte skin durante le mie dirette e a breve il 22 e 23 dicembre farò una maratona di natale dove farò un sacco di ore di wild drift e altre cose in live dove probabilmente ci saranno molti regali che tra l'altro in realtà sto già facendo durante il corso delle dirette quindi se non vuoi perderti le chance di provare a vincere tutte queste varie cose vi consiglio ti consiglio di entrare sul telegram delle notifiche ci sono solamente io che scrivo informazioni su quando vado live o roba del genere allo stesso modo va bene anche instagram dove pubblico le storie informative e altri contenuti interessanti ovviamente vi ringrazio per aver visto il video fino alla fine se vi è piaciuto lasciate un like ed iscrivetevi al canale io come sempre vi auguro una buona serata delle buone rank ed ci vediamo al prossimo video